Musica Buongiorno, buongiorno con noi in questo venerdì 13 ottobre 2017 in diretta come ogni mattina per vedere, per leggere insieme le principali notizie che arrivano dalla provincia di Lucca ma anche le notizie nazionali e internazionali, questa mattina però ci concentreremo in maniera particolare su Viareggio e la Versiglia, vi presento l'ospite, davvero un piacere avere questa mattina in studio il Vice Sindaco di Viareggio, Walter Alberici, buongiorno Buongiorno a tutti Vice Sindaco ma anche Assessore alle politiche attive del lavoro, ai lavori pubblici, alla promozione della città, insomma tante deleghe per Walter Alberici, l'abbiamo invitata a venerdì 13 ottobre e spero che non sia scaramantico No, è una giornata come tante Ok, quindi di 13, anzi per alcuni il 13 porta anche bene e quindi no, in questo caso non ci sono problemi Sento Assessore, nemmeno a farlo apposta purtroppo in primo piano nelle ultime ore c'è una vicenda che la riguarda da vicino perché insomma si sta occupando del tavolo che ha messo di fronte l'azienda Azimut Benetti e i sindacati Possiamo vedere subito l'apertura del Tirreno, d'altronde era anche l'apertura del nostro telegiornale della Versilia ieri sera, ma anche la seconda notizia qua su Lucca Azimut Benetti assicura non lasciamo Viareggio, l'amministratore delegato che dice non capisco lo sciopero deciso da CGL e Will, nessun declassamento, qui resta una parte importante della produzione Per chi non lo sapesse cosa è successo, tre giorni fa i sindacati hanno svelato questo piano dell'azienda dicendo vogliono portare 30-40 persone, in particolare gli uffici da Viareggio a Livorno E i sindacati appunto hanno proclamato lo sciopero, il Tirreno riporta anche le sue dichiarazioni Assessore, insieme ai lavoratori chiediamo chiarezza alla società, l'obiettivo è un accordo che dia certezze che non penalizzi la città Qual è la situazione? Credo non ci siano stati aggiornamenti nelle ultime ore, però insomma se ci rifà il punto della situazione No certo, intanto è bene definire che i processi di riorganizzazione aziendale sono processi che avvengono e che sono spesso necessari E si tratta in questo caso di spostare delle risorse umane da una città all'altra, da Viareggio a Livorno Siamo di fronte a un'azienda sana, un'azienda che lavora e che ha molte commesse anche per i prossimi anni No, questo confronto che si è aperto fra sindacato e azienda è un confronto che prevede la possibilità di spostare alcune risorse umane importanti Marketing, settore commerciale, insomma a Livorno Noi pensiamo che ci debba essere un'attenzione maggiore da parte dell'azienda sulle risorse umane presenti a Viareggio Noi auspichiamo che l'accordo si possa trovare tra le parti Vorremmo svolgere anche il nostro ruolo di mediazione se ci sarà richiesto Ecco, non vorremmo che fosse l'inizio di un disimpegno anche parziale delle maestranze che possono essere spostate da Viareggio a Livorno Penso che nei prossimi giorni abbiamo già preso contatto con l'azienda Può darsi che ci saranno anche degli incontri informali Cercheremo di svolgere il nostro ruolo di mediazione in questa avvertenza Oltretutto sul settore nautico la città di Viareggio ci punta e continua a puntarci Manifestazioni come il rendezvous, manifestazioni e investimenti come quelli che sul porto vogliono essere fatti Confermano che Viareggio ci punta? No, diciamo che l'area portuale avrà nei prossimi mesi degli interventi fondamentali Inizieranno i lavori per il nuovo porto commerciale Sarà ultimata la struttura del mercato ittico che è ferma da diversi anni Stiamo andando verso un confronto con la città per definire la traiettoria della via del mare C'è un impegno con i pescatori per un progetto europeo Insomma c'è intorno a quest'area un interesse da parte dell'amministrazione, da parte della regione piuttosto importante Noi vorremmo che quest'area diventasse, come lo è, ancora più strategica per la città Sia dal punto di vista occupazionale, sia dal punto di vista produttivo Lei parlava ovviamente anche degli investimenti che dovranno essere fatti sul porto Quanto è difficile fare l'assessore ai lavori pubblici in un comune con i problemi economici che noi conosciamo? Dobbiamo inventarci sempre delle soluzioni No, ecco diciamo che uno degli elementi paradossali è che noi avendo la possibilità attraverso Mover Di fare degli investimenti per esempio sulle strade, sui marciapiedi, sulla viabilità Per fortuna abbiamo questo accordo, questo contratto firmato con Mover E questo ci consente di fare interventi Se non avessimo questa possibilità noi saremmo limitati a fare interventi proprio di carattere soltanto legati alla sicurezza C'è una buca pericolosa, altrimenti non potremmo neanche intervenire sulla ordinaria manutenzione Ci sono tanti spunti, tante domande che voglio fare questa mattina Poi so che è una giornata ricca di appuntamenti, la libereremo il prima possibile Volevo continuare la lettura del Tirreno di Viareggio a pagina 2 questa triste notizia La Croce Verde e Lutto, addio a Marco Bertuccelli Storico volontario dell'associazione ed ex dipendente del cantiere Codecasa Lo chiamavamo Micio perché da ragazzo si nascondeva tra le ambulanze E poi alberi a rischio caduta, pini pericolanti allo stadio, chiusa la piazzetta Viani È successo mercoledì, racconta il Tirreno, quando in piazzetta un pino si è schiantato sulla via dei Mille Per fortuna nessuno passava di lì in quel momento e non ci sono stati feriti Ecco perché si chiede un monitoraggio continuo delle piante malate o a rischio caduta Questo è un tema chiaramente sentito Certo, è un tema che abbiamo e che purtroppo è molto evidente Anche basta vedere le nostre pinete in alcuni punti sono veramente a rischio alcuni alberi E poi ci sono due notizie legate al mondo del lavoro Apre il barbiere vintage ma non trova personale I titolari da più di otto mesi cercano in vano quattro dipendenti da assumere l'inaugurazione del negozio In programma per domenica 12 novembre Allo stesso tempo una notizia che riguarda la passeggiata Addio Grom, il colosso lascia appunto Viareggio Non è un arrivederci ma proprio un addio Dopo otto anni di attività il colosso torinese del gelato biologico Grom Chiuderà definitivamente i battenti 5 novembre Una notizia che stupisce Qui c'è scritto dopo un periodo di forte espansione Fanno sapere da Torino è arrivato il momento di una scelta più ponderata dei nostri punti vendita Viene valutato caso per caso la strategicità dei nostri retail Viene compiuta una valutazione di medio e lungo periodo Continua il Tirreno Evidentemente il punto vendita di Viareggio Forse leggermente decentrato rispetto al resto della passeggiata Non è strategico per l'azienda Ora io non so se lei ha seguito questo caso in particolare Fra l'altro sulla passeggiata a proposito di progetti Insomma ne avete di importanti Nei giorni scorsi è iniziata l'opera della nuova illuminazione Qualcuno ci sono altri progetti? No, no, diciamo i progetti nostri sono stati quelli di ridare alla passeggiata Una sua compostezza Diciamo Attraverso una riorganizzazione dei spazi esterni Del suolo pubblico Ora c'è questo intervento sull'illuminazione Voglio ricordare che stiamo anche definendo il progetto Per rifare l'intera terrazza della Repubblica E quindi abbiamo anche in questi giorni promosso un percorso per il Capris Per la possibilità che ci sia una manifestazione di interesse per il Capris Il Principino comincerà nei lavori Quindi diciamo che quell'area entro un anno e mezzo Sarà messa in sicurezza Sia dal punto di vista per valorizzare la sua bellezza Sia dal punto di vista della sicurezza Quindi stiamo lavorando in questo senso Di fronte a un Grom che se ne va Abbiamo anche diversi arrivi Nei prossimi mesi avremo alcune novità importanti In passeggiata di arrivi di grandi marchi Ah ecco, quindi ci anticipa questo Senta, per lasciare un attimino le vicende locali Mi fa piacere averla questa mattina Perché con lei possiamo parlare anche di altro e di altri temi Il Corriere della Sera e poi insomma tutti i giornali aprono con questa notizia Il web, la radio, le televisioni Legge elettorale passa il sì Proteste in piazza dei 5 Stelle Ci sono ovviamente anche dei partiti che hanno votato No, ma insomma la legge elettorale passa il cosiddetto Rosatellum bis Che ora passa al Senato Dopo l'approvazione, racconta il Corriere della Sera Sono iniziate le proteste del Movimento 5 Stelle Fratelli d'Italia e MDP Lei che cosa ne pensa? Io penso due cose La prima è che un Parlamento che arriva a quattro mesi Dalla fine della propria legislatura Senza aver avuto la possibilità di modificare la legge elettorale La richiesta dal Presidente della Repubblica La richiesta dalla Corte Costituzionale È piuttosto grave Il fatto che non ci sia stata questa capacità Da parte di questo Parlamento E quindi arrivare all'ultimo tuffo A rifare la legge elettorale Quindi, secondo me, insomma Questo elemento del ritardo è un elemento piuttosto grave e importante Sul merito, credo che la scelta di proporre la fiducia Sia stata una scelta scellerata Penso che queste siano norme che debbano essere più condivise possibile Dovrebbe essere un dibattito più largo in Parlamento E nel Paese è stata una forzatura Detto questo, insomma, verificheremo poi anche al Senato Nei prossimi giorni se questa riforma andrà in porto o meno Al di là, lei ha espresso un'opinione molto chiara Sul fatto che, insomma, le appare una forzatura Dal punto di vista del tipo di legge elettorale Anche rispetto all'Italico? No, mi pare la forzatura intanto sul metodo Diciamo Ok, è Il metodo, la scelta di fare Di chiedere la fiducia alle due Camere Penso che sia una scelta appunto di metodo Che non sia consona e opportuna Anche alla fase politica in cui siamo Sul merito credo che ci sia Questa mediazione che sia svolta in modo un po' strano Fra una parte della maggioranza Una parte dell'opposizione Che possa anche essere, diciamo, un viatico per il dopo Insomma, io ho qualche perplessità su questo accordo Ce l'ho Allora, ci dobbiamo fermare per una breve pausa Poi torneremo insieme alla vice sindaco di Viareggio Walter Alberici Ancora tanti altri temi che riguardano Viareggio e la Versiglia Non solo, a fra poco Di nuovo insieme la seconda parte di Buongiorno con noi Questa mattina in compagnia di Walter Alberici Vice sindaco di Viareggio Assessore alle politiche attive del lavoro Ai lavori pubblici Ma anche alla promozione della città E alle relazioni sindacali Insomma, tanti temi da affrontare con Walter Alberici Ci siamo lasciati prima Parlando di legge elettorale Di questo Rosatellum Approvato dalla Camera Poi ci dovrà essere passaggio al Senato Allora vorrei rimanere un po' al tema della politica Se posso approfittarne Ieri, anche al nostro microfono Intervistato da Federico Conti Parlando di politica Parlando di politica locale E di alleanze del Ghingaro Il sindaco ha detto Il PD in maggioranza Non chiudo le porte a nessuno Lo ha dichiarato a margine Dell'iniziativa dei democratici Via Reggini In municipio Insomma, questo Tra virgolette Tira e molla con il PD Dura da tanto tempo Come andrà a finire? Diciamo che ci sono delle storie personali Delle case comuni Quindi è chiaro che all'interno del nostro Consiglio Comunale La forza che è più vicina alla nostra maggioranza È il Partito Democratico Con cui Insomma Le storie personali La mia e quella del sindaco Si sono sempre intrecciate Certo E noi l'abbiamo però sempre detto Non è una Quello che ha detto il sindaco ieri L'ha detto anche All'inizio della nostra consigliatura C'è un programma elettorale Che è il nostro Che può essere anche Diciamo Aggiustato in qualche punto Se c'è Ci sono delle forze Che vogliono Accostarsi a questo programma A questo progetto Per la città Noi siamo sempre disponibili Che riguarda il PD E anche altre forze politiche Per quello che riguarda noi Naturalmente Le affinità con questo partito Sono affinità Della propria storia Della nostra storia Quindi Sarebbe il primo Con cui riusciremmo Secondo me Anche a intrecciare Un livello più avanzato Di confronto Sul programma appunto Di mandato Mancano ancora Tre mesi Ma a Via Leggio Cresce la febbre Verso il carnevale Aspettando carnevale Scrive il Tirreno Ricordando Anche le date Ma soprattutto C'è il Calendario dei Rioni Aprirà la croce Verde Il 27 O 28 gennaio C'è ancora un po' Di incertezza Scrive il Tirreno Poi dal 2 al 4 febbraio Marco Polo L'8 febbraio La vecchia Via Reggio Dal 9 al 13 Il carnevale D'Arsena Alla vecchia via Reggio Il giovedì Il giorno per i bimbi La sera Per i grandi Quindi insomma Via Reggio Che si sta avvicinando Verso questa Grande festa Certo Abbiamo appena finito La stagione estiva Che è andata anche Molto bene Per i nostri Imprenditori Adesso siamo Già impegnati La Presidente Mi sembra che sia Già impegnata Fortemente Sul nuovo carnevale Del 2018 Chiaramente Insomma Ci sono ancora Tante cose Da mettere A punto Però insomma La città si sta Preparando Fra l'altro Si parla anche Della sicurezza Si teme una nuova Stretta Organizzatori preoccupati Dall'applicazione Delle nuove norme Previste Nella circolare Gabrielli Fra l'altro Voi anche in passeggiata Avete dovuto Sistemare un po' Le cose Diciamo che abbiamo Un progetto Che sarà Completato Entro la fine Dell'anno Ci sarà Un grande progetto Su cui stiamo Lavorando Cioè Come rendere Sicura La passeggiata Dal punto di vista Delle norme Introdotte Dal Ministro Minniti Riprese Dalla Capo della Polizia Da un lato Quindi Rispondere A questa esigenza Ma Inserendo All'interno Della passeggiata Un arredo urbano Che consenta Da un lato Appunto Di garantire I livelli Di sicurezza Dall'altro E di rendere Ancora più bella La nostra passeggiata Ora Stamattina abbiamo parlato Finora Molto di passeggiata Però non vorrei Dimenticarmi L'altro tema Quello Molto sentito Che è quello Del mercato Del piazzone Lo chiamo io Anche su questo Avete già fatto molto E state lavorando Stiamo lavorando Su questa ipotesi Di Predisporre un bando Affinché Ci possano essere Degli interlocutori Che possano Intervenire direttamente Sul Sul piazzone Sul mercato Con un intervento Di carattere strutturale Ma anche poi Di funzioni C'era l'obiettivo Di concludere Entro la fine di ottobre Forse non ce la faremo Forse si andrà A mese di novembre Però presto Avremo questo bando Che consentirà A chi è interessato Di intervenire Su quell'area Naturalmente Insieme alla sovrintendenza Perché è un'area Di carattere monumentale E Ridisegnare Quella piazza Cercando Di garantire Però anche Agli operatori Che sono presenti Che hanno resistito In questi anni Di difficoltà Di avere Il loro ruolo Il loro spazio E la memoria Perché quel mercato Ha bisogno anche di memoria Non può essere Una cosa che rinasce Da zero Quindi Contemperare Da una parte La memoria La storia Di quel mercato Dall'altra Però dare modernità Sicurezza Bellezza A un'area Veramente bella A Lucca Mentre a Via Reggio Si aspetta il carnevale A Lucca Ormai ci siamo Manca davvero pochissimo Si aspetta Nei comics La nazione Oggi Dedica Ampio spazio Alla manifestazione Anche ieri C'è stata una conferenza Stampa In comune Proprio per presentare Altre novità Ogni piazza Un tema Un affare Da 60 milioni Di euro 80 mila biglietti Già volati in prevendita Si prevedono presenze E incassi Record Poi questa è la foto Del direttore Di IMT Pietrini Pietro Pietrini Fermiamo i bulli C'è stato In questi giorni A IMT Delle iniziative Dedicate Al cyberbullismo Al cyberbullismo E alle truffe Che viaggiano Per via telematica Violenze in famiglie Avvessazioni Così nasce Un baby criminale Pietrini Fotografa Gli adolescenti Difficili Vittime di se stessi Sappiamo insomma Che è esperto anche Di psicologia clinica Il professore Quindi insomma C'è questa lunga intervista Curata da Luca Vagnetti Proprio per individuare Per tracciare meglio La figura Del bullo Però appunto Quello che volevo farvi Vedere Sono queste Novità Che riguardano I comics Eccola qua La mappa Della città I comics In ogni piazza Sarà ricostruito Un quartiere generale Dell'esercito Statunitense Questa è un'altra Novità Ecco Però lo vedete Anche rispetto Al passato Quest'anno Ci si estende Anche alla zona Nord Più del solito Dopo Insomma Dopo che anche I commercianti Della zona Nord Avevano detto Ok Avete invaso Tutta Luca Tranne la zona Nord Bene I comics Vanno anche In questa Direzione Sicuramente Il merito Della città E degli organizzatori In questi anni Di sviluppo di comics È stata proprio questa Partendo dalla zona Sud Dove c'era anche Tanta confusione Troppa Piano piano Invece la manifestazione Si è stesa Tutto il centro storico Accontentando Un po' tutti È un po' come In qualche maniera Via Reggio Si vuol fare Non solamente la passeggiata Ma anche il mercato Insomma bisogna stare attenti La d'Arsena Ecco esatto La città diffusa Le iniziative diffuse Sono quelle che Secondo me Hanno poi anche Un significato Che coinvolge meglio La città E dà la possibilità Appunto di specificare Le aree diverse E dargli anche Un respiro diverso Insomma quindi Questa scelta Mi sembra una scelta Molto intelligente Lei è un appassionato Del mondo dei fumetti O comunque Dell'animazione Di videogiochi Videogiochi Sicuramente no Fumetti Ho la memoria Dell'adolescenza Dell'infanzia Mi piace però Camminare per le strade Della città Quando ci sono i comics Perché è una festa E dà l'idea Veramente della festa Dei colori Della musica Degli spazi Dei giovani Insomma mi piace molto Ieri c'è stata anche L'inaugurazione Abbiamo aperto il nostro TG Noi Ieri sera Con questa notizia Perché insomma Il tema della salute È sempre molto sentito Poi soprattutto Le novità Che hanno riguardato Luca Negli ultimi anni Inaugurazione Al Campo di Marte Altri 14 letti Per le cure intermedie L'assessore Saccardi Presente Che dice Così si realizza La continuità Assistenziale C'è stata quindi Questa importante Novità Che riguarda Il campo di Marte Poi Via Ingrillini A 30 all'ora L'assessore Marchini Così è più sicura C'è stata l'assemblea Dedicata proprio Al futuro Di questa zona di Luca Di Via Ingrillini Del nuovo sottopasso I marciapiedi Sono neri Dallo smog Dicono i cittadini Le case pure Qui mangiamo Pane e morte Addirittura Le dichiarazioni Dei cittadini Il comune Comunque si è detto Pronto a dialogare Con tutti i cittadini E con tutti i residenti Per trovare Una soluzione Una domanda Assessore Quando A febbraio Marzo Si parlava Delle candidature Degli schieramenti A Lucca Era venuto fuori Anche il suo nome Si diceva Forse Walter Alberici Potrebbe essere Come dire Portato Come candidato A Lucca Che cosa c'era di vero? Ce lo puoi dire A distanza di qualche mese? Sì Erano Diciamo Erano i giornalisti Che segmentavano I giornalisti Sono bravi A scovare Qualche frase Qualche Diciamo che In quella fase Particolare Buonvento Che era L'organizzazione Che è nata Con il sindaco E c'era Qualcuno Che aveva Fatto questo nome Insomma Però Non è mai stato Diciamo Reale Questa ipotesi Però insomma In quel momento Ci poteva essere La possibilità Che qualcuno Delle nostre liste Insomma Poteva Anche Lavorare Su Luca Poi dopo C'è stato Questo accordo Con Tambellini Qualcuno Come dire Che mi rappresentasse Buonvento Ok Ma proprio lei Che insomma È il vice sindaco Sappiamo bene Di quanto sia Forte legame Di fiducia Fra lei E del Ghingaro Insomma Giocarsi No Una spalla del genere Portandola a Lucca Da una parte va bene No Piazzava un uomo importante Dall'altra però Si sarebbe tolto un sostegno Sì ma la politica È fatta anche di queste Diciamo Sfaccettature A volte un po' strane Sì Eh C'è un'altra notizia Di politica Io ne approfitto Questa mattina Insomma Non mollo l'osso Come si suol dire Si parla ovviamente Anche del futuro Della regione toscana E allora C'è questa intervista Di Stefano De Biase Con il senatore Andrea Marcucci Regione Marcucci si smarca E dice Non corro Per la presidenza Il senatore Più dismentisce Non farò Il governatore Quindi non mi Candiderò Alla presidenza Della regione Scrive appunto Quest'articolo La nazione Così il senatore Replica Le indiscrezioni Di stampa Che lo volevano Fra i papabili Candidati Nella corsa Alla presidenza Della regione Nel caso In cui il governatore Rossi Dovesse decidere Di dimettersi Per tentare L'approdo In Parlamento In effetti Questo fatto Delle elezioni Imminenti Un po' di rivoluzione Politica La stanno causando Vediamo Quello che è successo A Pietrasanta Con Mallegni Quindi insomma C'è un po' di fermento Certi esponenti Anche della vita politica Nostrana Potrebbero decidere Di candidarsi Sì Io credo Che comunque Il presidente Rossi L'ha già dichiarato In più occasioni Insomma Credo che Porterà a compimento Il suo percorso Amministrativo Fino al 2020 Non penso Che sarà Della partita Delle prossime elezioni Nazionali Credo che Come si diceva prima Insomma Poi nei giornali Un po' di discussioni C'è sempre Credo che Questa dichiarazione Di Andrea Che sta facendo Un ottimo lavoro Al Senato Insomma Sia In questo momento Io sono La politica è molto Strana Come si diceva prima Insomma Dire di no Oggi Non necessariamente Non vuol dire Che poi le cose Cambino Un domani Insomma Penso che La giunta regionale Stia lavorando bene Che arrivi Secondo me A 2020 Senza Fibrillazioni Ulteriori Un'ultima domanda Prima di andare in pubblicità Cosa ne pensa Della decisione Di Mallegni Beh Dunque Intanto Mi sembra Che abbia avuto Un atteggiamento Da punto di vista Istituzionale Corretto Ha scelto Di andarsi Qualche Perplessità C'è sempre Quando si lasciano A metà I mandati Che vengono dati Degli elettori Però Insomma Conosco personalmente Massimo Credo che Abbia Ponderato bene Questo tipo di scelta Non Forse Non l'avrei fatta Insomma Ecco Però Credo che Sia giusto Che il suo percorso Trasparente Una persona Che l'ha letto Per tempo Se ne ha scelto Di andarsi Ora vediamo Pietrasanta Quello che succederà Credo che sia Un'opportunità Anche per il centro-sinistra Di riprendersi Quella città Diciamo che Anche Rispetto Ad altre situazioni Il commissario arriva In un comune Che in quel momento Non ha problemi Abbiamo vissuto Altre situazioni In cui il commissario Prefettizio Arrivava Con dei problemi Anche gravi Economici O di altro tipo In questo caso Insomma Prende un'amministrazione Che ha fatto bene In questi mesi Pubblicità E poi la terza parte Di Buongiorno con noi A fra poco Di nuovo Insieme La terza parte Di Buongiorno con noi Con il vice sindaco Livereggio Walter Alberici Assessore anche Alle politiche attive Del lavoro E lavori pubblici Quest'ultima parte Insieme a lui Poi lo restituiamo Anzi Lo diamo Al lavoro Oggi Una lunga giornata Fra l'altro Avete Lo possiamo dire Non è un segreto Aggiunta Certo Venerdì in genere Venerdì mattina C'è qualche Questo non so se me lo può svelare Qualche tema importante Che dovrete affrontare Sì diversi Ma lo saprete Nel pomeriggio Ok Intanto volevo leggervi Un messaggio Che ci è arrivato Da un telespettatore Vi ricordo Se avete qualche domanda Per l'assessore Alberici Oppure qualche riflessione Sui temi Che stiamo affrontando Potete farlo Il numero In sovraimpressione Parla di Lucca E ci dice Ma gli abitanti Dell'Arancia Stavano meglio Prima quando c'era Il passaggio di livello Con code chilometriche Smog e claxon Credo Che dovrebbero fare Salti mortali di gioia Per quest'opera Realizzata in un anno e mezzo Purtroppo Le persone Dimenticano E si accontentano Solo delle polemiche Strumentali e conservatrici È vero Che quando si fa L'amministratore pubblico Alberici Non si può Cioè è difficile Accontentare proprio Per tutti e tutti Certo Sì Diciamo Funziona così Però credo che Amministrare Vuol dire anche scegliere E quando si sceglie Poi si assumono Le responsabilità Poi saranno i cittadini A dirci Se abbiamo fatto bene Se abbiamo fatto male Credo che In merito a questo Questo riferimento Sia giusto ricordare Appunto che In quell'area Insomma Le cose sono cambiate Dal punto di vista Della viabilità Poi i problemi ci sono Sempre nella vita Cercheremo di affrontare Penso che La giunta Tambellini Cercherà di affrontare E di risolverli Come sempre ha fatto In questi anni D'altronde Si è fatto il sottopasso Lì in via In grillini C'è il problema Dell'incrocio Con via di Tiglio E di quell'altro Passaggio livello È lì in nodo Della questione Insomma lì Il traffico Quando si chiude Con il passaggio livello Lì comunque rimane Rimane lo smog E non è Non è semplice Però vedremo Insomma Ci sono allo studio Anche diverse ipotesi Di mettere a doppio senso Di nuovo la strada Di via dei Macelli A Lucca Il tirreno Apre con I dati diffusi Ieri dalla Caritas 200 persone in più Ai centri Aumenta il numero Degli assistiti Soprattutto fra i 50 anni E sono tanti Quelli che vengono seguiti Da molti anni Fra le storie di povertà Prevalgono Quelle delle famiglie Composte Da giovani Appunto ieri Altri dati forniti Dalla Caritas Si dice La crisi infinita Anche a Via Reggio Ovviamente Insomma Ci sono tante famiglie Che vengono Non è il suo tema Direttamente Assessore Però insomma Come vice sindaco Componente della giunta Il sostegno alle famiglie Che hanno bisogno Nonostante i problemi Anche economici Dei comuni Però è sempre fondamentale Certo Diciamo che Quello che riguarda Il sociale Insomma Un'amministrazione Che non si pone Il problema sociale Non è un'amministrazione Buona È una delle priorità Anche della nostra amministrazione Come penso Delle amministrazioni Anche di Lucca E degli altri comuni Della nostra provincia Un'attenzione Agli aspetti Che riguardano Le nuove povertà E il rapporto Con il volontariato Sono gli elementi fondamentali Per amministrare bene Per essere Diciamo I più sereni Possibili In una fase difficile Come questa Si parla Dell'iniziativa Di sabato Io non rischio Ne parleremo Fra l'altro Anche nel telegiornale Di questa sera Ve lo anticipo Su Noi TV Avremo ospite Un rappresentante Della protezione civile Scuola Di protezione civile Nei cortili Di Palazzo Ducale Domani Io non rischio 80 volontari Che spiegheranno I cittadini Come comportarsi In caso Di alluvione O terremoto Ci sarà anche Il capo Dipartimento Della protezione Civile E poi Vorrei andare Avanti Sulla Piana Di Lucca Sicurezza stradale Doppio intervento Sulle strade Porcaresi In via Facconi Sarà istituito Il senso unico Verso nord Dissuasore in sosta In arrivo In via del centenario Queste le novità Che riguardano Porcari Mentre A Capannori C'è un intervento Di Daniele Lazzareschi In cura Cimitero di Marli Al consigliere Chiede interventi Sul campo santo Della frazione Vorrei chiederle Degli anni Dei dieci anni Passati A Capannori Qual è la cosa Che ricorda sempre A Berici Con più soddisfazione Di quello che avete fatto Ce n'è una in particolare Quella che In particolare È quella che riguarda Artemisia Cioè Tassignano Riportare Quello spazio Che era uno spazio Che aveva una storia Anche legata A molte persone Alcune delle quali Non ci sono più E riuscire a trasformare Quell'area Da un'area In cui Il volontariato Aveva Messo insieme Molte iniziative E farla diventare Una struttura pubblica Norma Dove i ragazzi Vanno a studiare Dove c'è questo bel parco Esterno Ecco quella È la cosa Che ricordo di più E che ho vissuto Veramente In modo molto intenso E ogni volta che ci passo Mi fa sempre Un po' di emozione Insomma L'ex Il mattaccio Si chiamava Si chiamava così Trasformato In un In un polo In un polo Di questo genere Culturale Insomma Dove ci sono iniziative Di vario tipo E dove Soprattutto ci sono i giovani C'è il futuro Insomma Il futuro passa di lì E invece una cosa Che non è riuscito Che non siete riusciti a fare Che un po' vi ha Come dire Un ramarico Abbiamo fatto quasi tutto Ok Allora Le lascio il tempo Di rimettere Il microfono Che l'hai scivolato Intanto Per quanto riguarda La media valle garfagnana Si parla Del nuovo polo scolastico A Borgo Borgo a Mozzano Ha presentato il progetto L'opera Da un milione E 600 mila euro Al plesso di via San Francesco Perplessità Dei residenti Della zona E delle opposizioni Per la Viabilità A Gallicano Invece I lavori Finiti A Saiacopo Si torna A celebrare la messa Sarà una festa religiosa Senza fronzoli Ma con La soddisfazione Di aver compiuto Un miracolo Allora È il bello della diretta No 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 Lo sistemo io Mentre Tanto la regia Inquadra i giornali Io intanto le faccio Una domanda Certo Siamo rigorosamente In diretta E dobbiamo litigare Con i microfoni Con i microfoni Per quanto riguarda Le prossime sfide Che riguarderanno Via Reggio Quella più importante Secondo lei Oggi Minacitate Diverse No? Le ristrutturazioni La valorizzazione Della passeggiata Piuttosto che Del mercato Quella più importante Che segnerà Secondo lei Davvero La rinascita Della città Il nuovo Regolamento urbanistico Noi abbiamo Delle aree Della città Che sono aree Su cui è necessario Un intervento Parlo Dell'ex Salove Ex Fervet Ex Ponsi L'area Attualmente Ancora Deposito Clap Marco Polo Queste aree Hanno bisogno Di interventi Intanto Perché sono aree Che hanno Una Problematica Insomma Sono interi quartieri Insomma No? Quindi c'è bisogno Di ridare A quelle aree Anche una Propria E nuova dimensione Quindi noi Con il nuovo Regolamento urbanistico Vogliamo Dare Una prospettiva Di intervento A quelle aree Perché diventino Aree appunto Risanate Dove ci possono essere Interventi Investimenti Dove ci può essere Lavoro Quindi per noi Insomma Il nuovo Regolamento urbanistico È Che Voglio ricordarlo Via Reggio Non ce l'ha Da vent'anni Che manca E quindi abbiamo bisogno Di dare questa risposta Per le imprese Per i lavoratori Per tutti E noi Pensiamo Che il 2018 Sarà un anno chiave Della nostra amministrazione Un anno chiave In cui Vanno in porto Alcune Questioni fondamentali Questa è una di queste Per cambiare Anche la città Perché questo vuol dire Panc Nuove Possibilità Di Di sviluppo Vuol dire anche Nuovi Sbocchi Viari Vuol dire anche Consentire alla città Di Viareggio Di pensare A un futuro diverso Insomma Con un assetto diverso Da troppi anni C'è stata una disattenzione Rispetto ai temi Dell'urbanistica Della città Quindi Nel 2018 Ci sarà questo percorso Perché sappiamo Noi regolamenti urbanistici Prevedono i confronti Con i cittadini Esatto Abbiamo già iniziato Abbiamo già detto A cittadini Facciamolo insieme Cominciate a venire Nei nostri uffici A proporre Eventuali Ipotesi Soluzioni E noi Per evitare appunto Di Dillungarci troppo Quindi Anticipare le osservazioni E dare quindi Una La possibilità di sviluppo In tempi Ragionevoli Allora C'è una domanda Per lei Avete altri due o tre minuti Poi dobbiamo Lasciare E salutare Il vice sindaco Buongiorno Vorrei chiedere Al vice sindaco Di Viareggio Se l'intervento di ieri Del sindaco Al convegno organizzato Dal PD di Viareggio Vuol significare Un riavvicinamento Dello stesso Al suo ex Partito In parte Prima Lei aveva risposto Ma ce lo ridice Ma diciamo che Allontanamento Vero e proprio Non c'è mai stato Insomma C'è sempre stato Un filo Diretto Con Il partito Sicuramente Insomma Come dicevo prima Si tratta di Ragionare sui programmi Se i programmi Che abbiamo portato avanti In questi due anni E che vogliamo portare Ancora In fondo A questo nostro mandato È un programma È un programma Che è condiviso Anche nel partito democratico O in alcune parti Insomma Credo che si possa dire Tranquillamente Che per noi L'avvicinamento C'è già Insomma Quindi Stiamo nel merito Delle questioni Dimenticandoci Delle polemiche Di carattere partitico E ragioniamo Sui problemi Della città Noi Tutti coloro Che vogliono Opporre Soluzioni Ipotesi Idee Sulla città Sono i benvenuti Che siano nel PD O di altre O di altre formazioni No Siccome poi Qualche mese fa Insomma Lo ricorderà Oddio Forse è passato Anche più di un anno Quando venne Matteo Renzi Sì Proprio a Vereggio Sembrava esserci stata La svolta No Era circa un anno fa Un anno fa Sembrava essere Perché era prima del referendum Sì In effetti Sembrava esserci stata La svolta Con Renzi Che aveva dato Anche il suo input Al rientro Del Ghingaro Insomma Potrebbe essere davvero Un uomo fortissimo All'interno del PD Poi se non si è concretizzato È sembrato L'ultimo capitolo Della vicenda E poi Stop Quanta domi su cento Ma è l'unico candidato Il nuovo segretario Territoriale dei PD Sarà Mario Puppa Sì Il sindaco Ci ha fatto gli auguri A Mario Mi sembra Mi sembra che era qui Con te Sì Qua Al TG Sì Lo conosciamo Da molti anni Anche personalmente Anch'io voglio fargli Aguri a Mario Sono certo Che continuerà Nel percorso Dell'ascolto Degli iscritti E dei cittadini Insomma Gli faccio anche io gli auguri Penso che sia stata Un'ottima scelta Assessore Io la ringrazio Buongiorno con noi Grazie a voi Non finisce Ci troviamo dopo la pubblicità Per l'ultima parte Però davvero dobbiamo Lasciare Walter Alberici Vice sindaco di Viareggio Alla sua giornata In particolare Alla giunta Che ci sarà Fra pochi minuti Grazie Mi rinviti Assolutamente Un giorno in cui Non ha giunta E' stato con noi un'ora Il 13 L'abbiamo fatto Va bene D'accordo Grazie a Walter Alberici Buona giornata Buon lavoro Una breve pausa E poi torniamo insieme Per l'ultima parte Di trasmissione Grazie a tutti E allora l'ultima parte Di Buongiorno con noi Ci concentriamo Sulla lettura Dei quotidiani Ne dico la questa mattina Avevamo già visto L'apertura Del Corriere Della Sera Dedicata Alla legge elettorale Passa Il Sì Ma ci sono anche Altre notizie In primo piano A Milano L'inchiesta I fantasmi Che vendono coca E biciclette Rubate Questa è un'inchiesta Appunto Sullo spaccio Di droga E anche sui migranti Sui richiedenti Asilo E poi la questione Di Hollywood Hillary Clinton Restituisce Le donazioni Di Weinstein Il produttore Cinematografico Accusato Accusato Di molestie In questa foto Insieme all'attore Ben Affleck L'omertà degli uomini Anche Affleck Che dice Anche io Ho molestato Almeno una volta Una donna All'interno Del Corriere Della Sera Tutte Le riflessioni Sulla nuova legge elettorale La riforma supera Il primo scoglio La Camera 375 Sì 40 franchi Tiratori Tiene la maggioranza Allargata Assenti Oltre 25 deputati Ora Il Rosatellum Va a Palazzo Madama Ovvero Al Senato Dove La maggioranza Insomma Dovrebbe essere Molto più Scontata Però E' chiaro Che insomma C'è ancora L'attesa Per questo Passaggio E poi Tutti in retroscena Il leader PD e Berlusconi In pressing Sui deputati Alleanze Via le intese L'appello di Gentiloni Non è il tempo Delle irresponsabilità Sappiamo bene Insomma Che questa Legge elettorale Comunque avvicina Molte forze Politiche Che poi correranno Per conto proprio Ma almeno Su questo Fatto di approvare La nuova legge Si sono trovate D'accordo C'è una Analisi interessante A pagina 5 Del Corriere Su I possibili risultati A chi conviene Il nuovo sistema Il PD Al momento Perderebbe Seggi Il Movimento 5 Stelle Crescerebbe Rispetto alla legge In vigore Centro-destra Sempre primo Ma nessuno Governerebbe Quindi c'è questa Simulazione Sulla base Del voto Le due camere Che oggi Risulterebbero Elette Se si votasse Oggi Vedete Rispetto all'Italicum Corretto C'è molta differenza Di questi colori Che voi vedete Un frazionamento Decisamente maggiore Dei partiti Considerate Il Movimento 5 Stelle Con l'Italicum A 175 Parlamentari Mentre con Questo Rosatellum Avrebbe oltre 200 Parlamentari E poi Andando Avanti Vi volevo Segnalare Questa Notizia Che Riguarda L'UNESCO Gli Stati Uniti Israele Lasciano Appunto L'organizzazione E Trump Firma per Allentare L'Obamacare Lo strappo Dei due paesi Motivato Dai pregiudizi Verso Lo Stato Ebraico La politica Degli Stati Uniti Delle Ritirate Sembra L'inizio Di una Smobilitazione E scrive Il Corriere Della Sera Gli Stati Uniti Annunciano Ufficialmente Che lasceranno L'organizzazione Dell'ONU Per la protezione Del patrimonio Storico E Culturale E quindi Insomma C'è questa Novità Importante Che riguarda Un'organizzazione Molto conosciuta E molto importante A livello Mondiale A proposito Invece Delle cose Che riguardano Ancora l'Italia Ma gli intrecci Internazionali Si parla ancora Del caso Battisti Estradarmi E consegnarmi Alla morte Battisti E giornali brasiliani Dopo la revoca Della residenza Decisa Dal presidente Temer Si attende Il verdetto Della corte suprema Il ministro Orlando Che dice Tutti i passi Fatti Siamo Determinati Appelli disperati Di Battisti Che appunto Sta rilasciando Tante dichiarazioni Nelle ultime ore Ai media Brasiliani Non so se il Brasile Vorrà macchiarsi Di questo gesto Sarebbe una cosa Orribile Mostruosa Ha detto Cesare Battisti In un'intervista TV Dopo l'arresto A confine Con la Bolivia E poi La liberazione Saranno Decisive Nelle prossime ore Appunto Le decisioni Del Brasile E poi Questa storia Molto Particolare Che fa riflettere Sulle vicende Italiane L'uomo che denunciò Le spese pazze Del suo capo Io da eroe Ha emarginato Franzoso Diede il via All'inchiesta Sul presidente Delle ferrovie Nord Ora racconta La sua storia In un libro Mi hanno isolato E spinto A lasciare Quelli che in pubblico Si erano mostrati Più solidali Furono i primi A voltarci Le spalle E quindi C'è questa intervista Di Giorno Antonio Stella Al funzionario Delle ferrovie All'ex Funzionario Andrea Franzoso Che con l'aiuto Di un collega Denunciò appunto Le spese pazze Dell'allora presidente Norberto Achille Quelli che vennero Videro E tacquero Racconta appunto In questo libro Diamo uno sguardo Anche alle notizie Sportive Questa è la gazzetta Dello sport Dopo la pausa Per la nazionale Ritorna al campionato E allora ci sono Tante sfide E tanti spunti I messi D'Italia Mertens E di Bala 10 d'oro Che numeri Per Napoli E Juve La corsa scudette Ripartere La carica Dei piccoli Giganti E poi soprattutto Un occhio Di riguardo Al derby Perché Domenica sera È in programma Il derby Della Madonnina Tra inter Inter e Milan Qui non si passa Sono gli acquisti Milanesi Con i voti più alti In pagella Ovvero Scrignar Da una parte E dall'altra Rodriguez Per noi esiste Solo la vittoria Per crescere Dice il nero Dice il nero azzurro Mentre il rosso nero San Siro È sempre Da pelle d'oca Ma domenica Ci sarà Una partita Speciale All'interno Della Gazzetta L'approfondimento In particolare Però vi volevo Segnalare Quest'approfondimento Sui Due Dieci Che abbiamo visto Prima In apertura I messi Di casa nostra Mertens Il gioiello Del Napoli Infatti La corsa a scudetto Di Napoli Juve Riparte dalla carica Dei piccoli Giganti In verità Mertens È alto 1,69 Ha fatto Finora Sette gole In campionato Uno in Champions League Uno nei playoff Di Champions Mentre Di Bala Tanto piccolo Poi in effetti Non è alto 1,77 Ha fatto Dieci gole In campionato E due In Supercoppa Italiana E quindi Insomma Mettono In rilievo I giornalisti Della Gazzetta Queste Statistiche È anche vero Appunto Che non si affronteranno Napoli E Juve In questo Turno scudetto Napoli affronterà La Roma Per una bellissima sfida Mentre la Juventus Affronterà La Lazio Vorrei tornare Alle cose Che riguardano La provincia di Lucca Ne parlavamo Questa sera Fra l'altro Avremo ospite Al TG Noi Anche un rappresentante Della protezione Civile L'iniziativa Io non rischio Che scenderà Nelle piazze Anche di Lucca Nella giornata Di domani Vorrei vedere Il servizio Che ieri sera Abbiamo preparato Proprio dedicata A Io non rischio Le buone pratiche Di protezione Civile Questo è un tema Molto interessante Che come vi dicevo Affronteremo Anche questa sera Vediamo questo servizio Una giornata Dedicata Alle buone pratiche Di protezione civile In caso di terremoti O eventi Alluvionali Sabato 14 ottobre I volontari Le istituzioni E il mondo Della ricerca Scientifica Si ritroveranno In centro storico A Lucca Per la manifestazione Io non rischio Che andrà in scena Anche negli altri Capoluoghi Di provincia Italiani L'iniziativa È stata presentata A Palazzo Ducale Da provincia Comune di Lucca Prefettura E associazioni Di volontariato È una giornata Informativa Che riusciamo A mettere insieme Grazie al sistema Di protezione civile Della provincia Di Lucca Tutte le istituzioni Chiamate ad operare In questo delicatissimo Settore Ma soprattutto Grazie Al grande mondo Del volontariato Lucchese Operante In protezione civile Che ci consentirà Di animare Per l'intera giornata E di informare I cittadini Fino a Tardasera L'appuntamento È in cortile Degli Svizzeri E in cortile Carrara Dalle 9 alle 18 Con gli stand Informativi Che la mattina Saranno visitati Dalle scuole Nel pomeriggio Ci sarà la partenza Della passeggiata Competitiva Io non rischio Organizzata in collaborazione Con il gruppo sportivo Camigliano E il polo scientifico Tecnologico Fermi Con chilometraggi Di 2, 5 e 10 chilometri Allora con questo servizio Chiudiamo Buongiorno Con noi Io vi ringrazio Per averci seguito Comunque se volete L'informazione Torna fra poco Con il nostro Telegiornale Buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.